Superato ampiamente il picco della seconda ondata dell'epidemia Covid, in Umbria le curve dal crollo registrato inizialmente stanno registrando una riduzione della flessione e il quadro tracciato dal nucleo epidemiologico della regione nella consueta di aggiornamento settimanale sull'andamento della pandemia. I dati, è stato spiegato, stanno evidenziando un calo dell'incidenza anche nelle aree più a rischio dell'Umbria ma testimoniano che il virus sta ancora circolando. Anche riguardo agli attualmente positivi la discesa verticale ha cominciato ad essere un po' più acchiatita e pur continuando a scendere sta avendo una minore flessione rispetto a quanto successo precedentemente, secondo quando sottolineato ancora dagli esperti del nucleo epidemiologico. Una cerimonia per pochi, ufficiali e agenti nelle diverse sezioni della Polizia di Stato, quella del precetto natalizio della Questura di Perugia celebrato ad Ospedalicchio di Bastia Umbra, ad ufficiare la cerimonia religiosa dove è intervenuto anche il questore Antonio Sbordone, il cappellano della Polizia di Stato e parroco del sacro luogo ospedalichiense Don Emanuele Bolognino. Nella sua Omedia Bolognino ha parlato della figura di Gesù raccontando di un bambino e di una senza fissa dimora e di come entrambi avessero in quell'occasione incontrato il figlio di Dio sulla base della carità. Di Natale diverso ma carico di speranza per un futuro migliore ha parlato invece il questore nel suo breve saluto ai suoi uomini e alle sue donne. Noi lo abbiamo intervistato. Dottore, un Natale diverso, un Natale migliore si spera, giusto? Sì, infatti, una diversità che voglia significare recuperare il senso del Natale, quello che appunto ho augurato a me stesso, ai miei uomini, auguro a tutta la nostra comunità. Veramente dobbiamo sperare in un Natale ed in un futuro migliore. Stiamo andando verso quello che è una restrizione più forte, proprio a ridosso di queste festività. Sarà complicato, dottore? Io quello che auspico come appunto responsabile della sicurezza in questa provincia è che le norme siano il più possibile chiare perché questo ci rende il lavoro più facile e possiamo spiegarle meglio ai cittadini e applicarle diciamo con maggiore semplicità perché altrimenti si creano equivoci e si creano anche situazioni appunto complicate da gestire che noi soprattutto in questa fase, in questo periodo particolare vogliamo assolutamente evitare. Diamo un'occhiata a quello che è stata l'attività negli ultimi mesi, nei mesi in cui lei è arrivato nella città di Perugia e sul territorio. Quali le maggiori difficoltà incontrate? Ovviamente un periodo condizionato come sappiamo dall'epidemia. Le difficoltà maggiori che riscontro sono quelle legate comunque al contrasto di alcune fenomenologie delittuose, in particolare la droga, l'ho già detto, la droga e mi riferisco soprattutto all'impatto che la diffusione della droga ha sui giovani e sui giovanissimi, droga e alcol. Noi dobbiamo impegnarci, lo faremo sempre di più nel prossimo anno per contrastare queste problematiche. Poi fenomeni che sono comuni a tutte le città purtroppo di microcriminalità talvolta che attecchiscono in situazioni di degrado e questo dobbiamo impegnarci per combattere questi fenomeni con un'azione sinergica che veda impegnata tutta l'istituzione. Ogni buon questore, lei non è da meno, cerca sempre il contatto con la popolazione. Come sta andando? Bene, però come dicevo sono condizionato dalla situazione. Vorrei fare di più e spero di poterlo fare l'anno prossimo in situazioni di maggiore normalità, essere più presenti appunto nella comunità perché il mio lavoro assolutamente deve partire da questo. A fronte di quelle che saranno le normative e le restrizioni che arriveranno al governo ci sarà evidentemente per i suoi uomini e le sue donne da lavorare molto di più, crede? Sì, in realtà soprattutto per il fatto che le restrizioni e quindi le norme da dover far rispettare spesso impattano in un contesto di vita tra virgolette normale, cioè quando la vita è normale, quando appunto le persone circolano, quando anche i reati vengono commessi per noi il lavoro naturalmente raddoppia. Prevediamo anche manifestazioni che interesseranno l'ordine pubblico perché è evidente che la crisi economica avrà un impatto particolare, notevole anche da noi. Ultima battuta, spostiamoci il suo a un territorio amplissimo, andiamo in Valnerina, lassù insomma se qui piove, lassù grandina e fa tempesta, come sta andando per l'attività della polizia. Non riscontriamo particolari problemi sotto il profilo della dirittuosità, una popolazione che soffre maggiormente in questo periodo e che ha bisogno effettivamente della vicinanza di tutti, di tutte le istituzioni, cosa che proviamo a fare come sempre e come è doveroso. L'ultima, vuole approfittare per poter fare gli auguri ai cittadini e al suo personale? Sì, ribadisco l'augurio che ho appena fatto al mio personale appunto in conclusione della cerimonia religiosa, che sia un Natale migliore, ecco, più che diverso, migliore, nel senso di recuperarne il senso di questa festività. 1.002 veicoli, 1.117 persone controllate, ritirate tre patenti di guida e sette carte di circolazione, emessi tre fermi e otto sequestri amministrativi e nel complesso sono stati decurtati un totale di 221 punti dalla patente. È il bilancio di Road Pole Alcohol and Drugs della sezione polizia stradale di Terni, relativo all'attività della prima metà del mese di dicembre, effettuata con 165 pattuglie nell'ambito della campagna europea. Gli equipaggi sono intervenuti anche per situazioni di emergenza, per prestare soccorso e assistenza agli utenti della strada, registrati da questo punto di vista 150 soccorsi a persone. Dal punto di vista sanzionatorio sono stati contestati 385 verbali per la mancata osservanza del codice della strada e denunciate 4 persone per aver commesso illeciti penali in materia di circolazione stradale. Grosso il lavoro sul contrasto agli eccessi di velocità attraverso l'uso di dispositivi Tracam e Telelyser che hanno portato alla contestazione di 36 verbali amministrativi. Durante Road Pole Alcohol and Drugs, come ultimo dato, ma non di minore importanza, sono stati rilevati 19 incidenti stradali, 4 dei quali collisioni e 15 con solo danni alle cose. La conferma è di almeno un milione di tonnellate di acciaio fuso che garantiscono gli attuali assetti industriali e commerciali degli organici a livelli attuali fino al 30 settembre 2021 all'Asti di Terni. Lo prevede una preintesa sul piano industriale Ponte raggiunta dalle segreterie territoriali e le RSU dell'acciaieria con l'azienda. Lo hanno reso noto i sindacati, l'accordo stabilisce inoltre hanno reso noto sempre i sindacati in una nota congiunta il reclutamento di almeno 17 lavoratori somministrati usciti a giugno 2020. 20 milioni di euro di investimenti, 7 dei quali per il completamento del progetto Scorie. Le organizzazioni ritengono positiva ed importante la preintesa raggiunta in quanto garantisce i temi principali relativi al mantenimento dei livelli industriali, occupazionali e salariali dei lavoratori. Magaro in aula al Senato dopo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca ha posto la questione di fiducia sul decreto legge sicurezza. Quando il vicepresidente di turno, Ignazio Larussa, stava per dichiarare aperta la discussione generale, il Ministro ha preso la parola. A quel punto nell'emiciclo è scoppiata la protesta delle opposizioni, diversi senatori si sono riversati verso i banchi del governo. Larussa ha sospeso la seduta e ha chiesto l'intervento dei questori per riportare l'ordine in aula. I senatori della Lega hanno successivamente occupato i banchi del governo nell'aula del Senato per protesta contro il voto di fiducia posto dal governo sul decreto sicurezza prima che cominciasse la discussione del provvedimento. Noi abbiamo raggiunto in video e remoto il senatore della Lega, Luca Brizziarelli. La persona che vedete inquadrata in questo momento, nonostante la mascherina bisognerà che diciamo chi è, è il senatore Luca Brizziarelli, Lega. Senatore, che cosa sta succedendo a Palazzo Madama? In questo momento la seduta è sospesa, è sospesa perché si è interrotta la discussione per la conversione del decreto clandestine, cioè quel decreto che PD e 5 Stelle stanno cercando di approvare per smontare i decreti sicurezza voluti da Salvini. Cioè mentre c'è la pandemia, mentre muoiono migliaia di italiani, una situazione economica pesantissima, qual è la priorità per la maggioranza? Approvare un decreto che smonta un ottimo lavoro fatto da Salvini quando era Ministro dell'Interno. E qual è la cosa ancora più grave? Non stanno sentendo ragioni, ci sarà un aggravio di costi, ci sarà un rischio per la cittadinanza, eppure in Commissione non ci è stato permesso di concludere la discussione sugli emendamenti. In Aula, prima ancora che la discussione generale cominciasse, il Ministro ha cercato di porre la fiducia perché in quel caso non saremmo potuti più intervenire. Ora, questo ha portato a un'azione da parte prima dei senatori del PD che non volevano farci arrivare pacificamente ai banchi del governo per impedire questa comunicazione. C'è stato anche qualche scontro e ci riserviamo di vedere le riprese perché mentre il nostro atteggiamento è sempre stato pacifico, lo stesso non si può dire di quello di alcuni colleghi della maggioranza e ripeto, le riprese ci daranno sicuramente sostegno in quello che stiamo affermando. In questo momento noi chiediamo il diritto di poterci esprimere, non c'è nessuna urgenza, da 13 mesi questo governo annuncia un giorno sì e l'altro anche di voler cambiare i decreti, quindi non c'è necessità e urgenza di fare un decreto, non c'è necessità di impedirci di dialogare, di dire quali sono le nostre ragioni. Ora c'era in corso la conferenza dei capi gruppo per decidere come procedere. Noi da qui non ci schiodiamo perché stiamo difendendo il Parlamento, la Costituzione e i diritti di tanti cittadini che pretendono risposte sui problemi seri e non di vedere per motivi ideologici allungare i tempi del permesso di soggiorno concesso, permettere di reiterare le domande anche a chi gli è stata bocciata, aumentare i costi della gestione, forse a qualcuno interessa speculare nuovamente sull'immigrazione e non interessa che tornino a aumentare purtroppo quei morti che invece grazie all'azione del Ministro Salvini si erano interrotti, non solo avevamo ridotto i costi, ma avevamo salvato tantissime vite umane, i numeri sono in controtendenza, con questo governo la mangiatoia è ripartita, sono ripartite le partenze, purtroppo sono aumentati anche i morti. E poi l'inopportunità di trattarlo proprio in un momento come questo così delicato per la nostra nazione, in quanti siete? Noi siamo il gruppo al completo schierati in aula, confidiamo, visto che a parole l'hanno fatto, che ci sia un sostegno alla nostra azione anche da parte degli altri colleghi del centrodestra, il resto è un tema fondamentale su due aspetti, nel merito, ma anche nel metodo, perché un governo che ha cominciato con il PCM a calpassare la Costituzione, a fare gli annunci in televisione su Facebook e non in aula, perché trova il tempo per tutto, tranne che per venire in Parlamento, ora sta pure calpestando i diritti previsti dalla prassi, perché è chiaro che il governo potrebbe chiedere la fiducia, ma poteva farlo al termine della discussione generale, darci almeno la possibilità di esprimerci, ma evidentemente le nostre argomentazioni sono così forti che si vergognano di farcele esprimere, perché poi quei discorsi arriverebbero ai cittadini, la verità arriverebbe ai cittadini, è questo che la maggioranza vuole impedire. Poi c'è qualcuno della maggioranza che ci ha già prenotato il treno o l'aereo e che magari preferirebbe ripartire stasera. L'abbiamo persa? L'abbiamo perduta per un attimo. Dicevo, poi c'è pure qualcuno della maggioranza che si è già prenotato l'aereo o il treno per rientrare, evidentemente per noi non ci sono sabati e domeniche, non c'è una questione d'orario, siamo qui per difendere l'interesse dei cittadini e pretendiamo che tutti facciano lo stesso. Senta senatore, ma con chi avete avuto lo scontro fisico? Quanto meno chi è che fisicamente li ha impediti? A nostro giudizio il senatore Marcucci, ma su questo rifletto ci sono delle immagini, si è scontrato duramente con i senatori nostri, peraltro c'è stato anche un momento di contatto con la senatrice Pergrefi che ovviamente non poteva che avere la peggio e che si arrivi a questo punto assolutamente con atteggiamenti squadristici è vergognoso, ci sono i dipendenti del Senato che in caso di necessità possono intervenire, non possiamo permettere che ci siano senatori che pensano di trasformarsi in giustizieri per quello che secondo loro è giusto o sbagliato, non si può arrivare a questo punto, va comunque garantita una pacifica ancorché in termini di manifestazione, espressione, non si può arrivare alle mani, assolutamente la violenza non è mai giustificata. Quindi andate avanti ad oltranza ad occupare la valuta? Ora stiamo valutando come procedere, sicuramente se non dovessero essere tutelati e garantiti i nostri diritti di parlamentari eletti dal popolo, perché a noi ci ha eletto il popolo a differenza del Presidente del Consiglio che è sì per carità votato da un Parlamento ma che non è più rappresentativo di quello che è il comune sentire della maggioranza degli italiani, ci faremo valere e non ce ne andremo da qui. Il senatore Salvini c'è oggi con voi? È qui a Roma in questo momento, non si trova in aula, ma è qui, è intervenuto anche per salutare e questo è un momento positivo, il rilascio dei pescatori. Ovviamente, certo, noi salutiamo con positività il lavoro dell'intelligence, stigmatizziamo i 108 giorni e ce ne sono almeno un centinaio di troppo di incapacità da parte del governo e soprattutto riteniamo che si doveva prima farle arrivare in Italia e poi montare il circo mediatico al quale il Presidente del Consiglio e il suo portavoce ci hanno abituato purtroppo in questi mesi, visto che per loro conta più l'audience che l'effettiva sicurezza dei nostri connazionali, altrimenti si sarebbero mossi prima. Infatti su questa cosa dei pescatori ho visto che c'è stata un po' la corsa a tirarci il cappello sopra o mi sbaglio? Beh, sicuramente non elegante, irrispettoso e rischioso. Dopodiché, ripeto, siamo tutti contenti, tutto il Parlamento ha portato comunque una modifica al Decreto dei Stori per pensare anche al sostegno economico delle famiglie, si poteva fare di più anche in questo caso, ma comunque qualcosa è stato fatto, però non si specula su questo. Ho capito. Allora, Senatore, noi siamo qua. Lei quando vuole ci avvisi perché riapriamo questa finestra, va bene? Buona giornata. Siamo alla mensa San Valentino di Terni, gestita dalla Caritas della diocesi di Terni-Narni-Amelia con il direttore ideale Piantoni. Vogliamo fare un quadro sulle povertà della città, che si è un po' amplificata la povertà in città grazie a questa pandemia. Il perdurare della pandemia ha aggravato ancora più tutte le situazioni e ci ritroviamo con delle bollette esorbitanti, degli affitti, un cumulo di affitti di 6-7 mesi, situazioni gravi, aggravate magari da quelle situazioni familiari che la pandemia ha accentuato, la violenza familiare e l'abbandono della famiglia da parte di qualche uomo, quindi mamme sole con bambini. C'è la paura che finisca o che venga sospeso questo reddito di cittadinanza, perché alcuni stanno valutando le situazioni mano a mano e quindi sono disperati, mancando un mese o due il reddito si trovano in difficoltà grande. Facciamo quello che possiamo, ne facciamo tante, però dobbiamo essere consapevoli che facciamo dei tamponamenti. Tamponiamo, non riusciamo a risolvere le questioni così gravi. Siamo in prossimità delle festività natalizie, cosa state mettendo in campo proprio in questi giorni? Adesso innanzitutto abbiamo fatto una raccolta in chiesa il 13 dicembre per la terza domenica di avvento, quella in Gaudete, perché abbiamo bisogno di liquidità per pagare le bollette, per aiutare queste persone. E quindi questa è la prima cosa. L'emporio sta andando avanti, abbiamo fatto una raccolta sempre nelle chiese per i geni alimentari di cui bisogniamo di più. Ci sono tante donazioni per fortuna, questo è il bello, tante donazioni che fanno molto piacere, sia alimentari che in buoni, spesa, che aiutano tantissimo. Cerchiamo di sostenere anche le parrocchie che curano tutte queste persone, più di noi forse. Ecco perché sono proprio dalle parrocchie che vi vengono segnalate le situazioni di criticità. Sì, dovrebbe essere sempre in quel modo. Delle volte bypassano, le parrocchie vengono direttamente da noi e noi riconvolgiamo la loro parrocchia e ci uniamo a loro e anche ad altre associazioni, al comune quando c'è bisogno e cerchiamo di aiutarli come possiamo. Ecco, da parte sua un appello a cittadini, imprenditori, istituzioni, lo vogliamo lanciare proprio in questi giorni di riflessione e di festa? Io direi più ai cittadini che a tutti gli altri, perché ecco dipende da noi. L'esito di questo aggravamento della pandemia dipende da noi, quindi soprattutto i giovani, che io capisco ma non giustifico. State attento ai nonni, state attento ai genitori, cercate di salvaguardare questa generazione che ancora regge in piedi il Paese e il nostro territorio. Presidente Venturini, oggi un segno importante per la diocesi di Terminardi Amelia, l'inaugurazione qui alla Mensa San Valentino di un gazebo a supporto dell'accoglienza. Sì, dell'accoglienza per fornire dei pasti caldi alle persone che per diversi motivi non possono accedere ai locali della Mensa. Allora abbiamo pensato di fare questo gazebo riscaldato e le persone che hanno 37,5 di temperatura corporea, perché noi misuriamo la temperatura a tutte le persone che entrano e quindi chi ha 37,5 oltre non possono accedere, allora le diamo un sacchetto con il cibo caldo e lo possono consumare dentro il gazebo. O quando la sala è piena in questo momento, per l'enorme Covid, più di 10 persone non possono mangiare. Quindi quando è piena e non vogliono aspettare, allora gli si dà la possibilità di accedere a questo gazebo. È stato fatto in realtà in occasione della giornata del Mondiale del Povero, istituita da Papa Francesco e l'abbiamo, diciamo, non inaugurata ma l'abbiamo aperta in quell'occasione e oggi, in occasione del Natale, abbiamo pensato di fare questo segno. Ancora una volta nel Palazzo della provincia di Perugia si elogiano i valori della Natività con un'opera d'arte presepiale di grande rilievo. Nel segno della tradizione, ieri mattina al secondo piano dello storico edificio di Piazza Italia è stato inaugurato il presepe allestito davanti all'albero di Natale, in collaborazione con l'associazione Amici del Presepio Gualtiero Angelini di Città di Castello. Una cerimonia in tono ridotto, che quest'anno, come ricordato dalle parole del presidente Luciano Bacchetta, assume un significato particolare, sia per il difficile momento legato all'emergenza Covid-19, che per la recente ed improvvisa scomparsa del maestro Giulio Marucci, artista geniale fra i fondatori dell'associazione Amici del Presepe, che ha realizzato il presepe di oggi con un tema a lui caro, i vicoli e scorci più suggestivi del centro storico di Città di Castello. Sarà Alessandro Di Graci, della sezione di coma a dirigere Triestina-Perugia a gara valida per la sedicesima giornata di campionato Lega Pro-Girone B, in programma sabato 19 dicembre alle ore 15 presso lo stadio Nereo Rocco. A Codio Varro gli assistenti Michele Somma e Francesco Davice, entrambi della sezione di Castellammare di Stabia. Quarto, ufficiale, sarà Roberto Lovison della sezione di Padova. Tranquillo, pacato, ma con le idee chiare. Così il bomber Federico Melchiorri ha risposto alle domande della stampa. Come interpreti il momento che sta attraversando il Perugia dopo il pareggio con la Virtus Verona e alla vigilia di una trasferta così impegnativa come quella di Trieste? Io sono positivo, comunque il pareggio con la Virtus Verona è comunque l'ennesimo risultato utile consecutivo che portiamo a casa. L'importante è la continuità, i campionati non si vincono vincendo e perdendo ma vincendo e pareggiando, quindi è un altro passo che ci porta verso l'obiettivo. Il campionato è lungo e quindi è molto meglio fare un pareggio che porta comunque libertà dentro la testa piuttosto che una sconfitta che magari può essere molto più pesante. Per quanto ti riguarda è arrivato il tuo sesto gol, tra l'altro in extremis, molto bello. come valuti invece la tua stagione personale fino a questo momento? Ti si chiedono, agli attaccanti si chiedono i gol e stai rispondendo insomma. Grazie. Beh sì, diciamo personalmente penso che si può far meglio e si può far molto meglio. Posso sicuramente, magari potevo sbloccare la partita prima come già è successo in altre in altre occasioni, quindi qualcosa da migliorare sicuramente ce n'è. Per il resto della stagione comunque io sto giocando con continuità, quella è la cosa più importante che mi sta entusiasmando di quest'annata e piano piano, giocando appunto con continuità si riesce sempre a star meglio fisicamente nonostante l'età. Ben ritrovati amici del Centro Meta Italiano. L'alta pressione porta tempo per lo più stabile in Italia, ma anche molte nuvole. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 18 dicembre. Deboli pioggia al mattino, possibili su Liguria, Sardegna e Sicilia Orientale. Asciutto altrove, ma con molte nubi, anche compatte su pianura padana e medio adriatico. Al pomeriggio ancora pioviggini su Liguria e Sardegna. Variabilità asciutta altrove. In serata e nottata, deboli precipitazioni possibili su Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. Stabili altrove, ma con molte nuvole, specie su coste e pianure. Temperature minime in rialzo, specie al centro-sud, massime e stabili o in lieve calo. Per ulteriori dettagli, seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meta Italiano. Un saluto da parte del Centro Meta Italiano. Un saluto da parte del Centro Meta Italiano.